A A A, cercasi casa disperatamente. Cerco loft in palazzina d'epoca, ma in contesto moderno. In centro città, ma immerso nel verde. Ai piani alti, ma in stabile basso. Astenersi per di tempo. Se la ricerca ti sembra impossibile, non arrenderti. Ecco due esperti pronti a trovare la soluzione per te e per le tue tasche. Che carina, un amore. Cerco casa disperatamente. Tutti i giovedì alle 21.10 su Real Time. Grazie.